Lewis Waters avrebbe sempre voluto essere un poeta. Già da quando era ragazzo, andava a scuola. Leggeva avidamente Whitman, Elliot, la Dickinson. E poi questa passione si era trasformata in un vero e proprio amore quando era andato all'università. Lì passava giornate intere, settimane, mesi, su quei libri, fino a che non li imparava dall'inizio alla fine. Li sapeva recitare a memoria, tutti. E ogni tanto ci provava anche lui a buttare giù qualche verso. Non erano granché. Non li faceva mai leggere a nessuno, infatti, ma aveva un'ambizione, essere pubblicato. E così, quando ne aveva raccolti un po', che secondo lui meritavano, li prendeva lì, mandava un editore. Non rispondeva mai nessuno, o quasi. Qualche volta una lettera tornava indietro. Spesso era interlocutoria. Ma tanto bastava, Luiz, per infondergli una nuova passione che lo portava a scrivere, scrivere ancora, per mesi, solo al pensiero di quella lettera che gli era arrivato. Poi la vita aveva preso un po' il sopravvento. Aveva conosciuto Diane, si era sposato, aveva iniziato a fare l'insegnante. E per la poesia lo spazio era un po' diminuito. Soprattutto perché a Diane il fatto che lui fosse poeta non piaceva tanto. Aveva sempre una strana sensazione, come se lei gli rimproverasse quel rapporto così intimo con le parole, che evidentemente non riservava a lei. E così aveva smesso di scrivere. E per la poesia non c'era stato più spazio. Era relegata a un altro periodo della sua vita, soprattutto ora. Anche se sua moglie ormai era morta e non aveva più nessuno di cui occuparsi. Niente più poesia. Perché nella sua vita era entrata Eddie Moore. Era successo una sera di maggio. Eddie gli aveva telefonato e poi era andato a trovarlo. Lui l'aveva accolta in casa sua, Eddie, che abitava a pochi metri da lui, da 40 anni. Era 40 anni che si conoscevano. Eppure chissà come mai non avevano mai parlato più di tanto. Sì, un po', quattro parole, ma non di più. L'aveva ascoltata, le aveva offerto un tè e poi lei se n'era uscita con quella strana richiesta di passare le notti insieme. Niente a che vedere con il sesso. Questo l'aveva chiarito subito. Era più qualcosa che aveva a che fare con l'intimità, con un respiro che ti sta a fianco la notte, con la solitudine, che di notte Eddie sentiva in maniera più profonda. Ed era convinta che così fosse anche per lui, per Louis. Louis all'inizio aveva tentennato. Chissà cosa dirà il paese. In un attimo lo sapranno tutti. Poi aveva preso coraggio, era sceso in Main Street ed era andato dal barbiere. Si era fatto i capelli e la barba. Poi era tornato a casa, aveva preso uno spazzolino, un pigiama, li aveva messi in una borsa, aveva percorso i pochi metri che separavano casa sua dalla casa di Eddie Moore e aveva bussato alla sua porta. vado un attimo in bagno. Mentre lei non c'era, Louis si mise a guardare le foto sulla cassettiera e quelle appese al muro. Foto di famiglia, con Carl, il giorno del matrimonio, sui gradini di una chiesa chissà dove. Loro due in montagna accanto a un torrente, un cagnolino bianco e nero. Louis conosceva un pochino Carl, un bravo uomo, piuttosto tranquillo. Vent'anni prima vendeva assicurazioni sul raccolto e altre polizie in tutta la contea. L'avevano anche eletto sindaco di Holt per due mandati. Non era mai arrivato a conoscerlo bene, cosa di cui in quel momento era ben contento. C'era una foto del figlio e due della figlia da ragazzina. Jean non assomigliava ai genitori. Un ragazzo alto e magro, molto serio. Quando lei tornò, lui disse, vado anch'io in bagno. Ci entrò, usò il water e si lavò scrupolosamente le mani. Spremette un po' del dentifricio di Eddie sullo spazzolino e si lavò i denti. Poi si tosse le scarpe, si spogliò e si infilò il pigiama. Posò i vestiti piegati sulle scarpe che lasciò nell'angolo dietro la porta e tornò in camera. Lei si era messa la camicia da notte ed era a letto accanto alla bajura accesa. Il lampadario era spento e la finestra socchiusa. Soffiava una brezza fresca, leggera. Lui si fermò vicino al letto. Lei ripiegò il lenzuolo e l'ho coperta. Non vieni sotto? Ci stavo giusto pensando. Si infilò a letto dall'altro lato, si coprì bene e si mise su pino. Non disse una parola. A che cosa pensi? Sei molto silenzioso? A quanto è strano? Alla novità di trovarmi qui? A quanto mi sento insicuro, persino un po' nervoso. Non so cosa pensare. Che casino. È una novità, vero? Una bella novità, oserei dire. È per te? Anche per me. Che cosa fai prima di dormire? Boh, guardo il telegiornale delle dieci, mi metto a letto e leggo finché mi addormento. Ma non so se stanotte riuscirò a dormire. Sono troppo agitato. Adesso spengo. Possiamo continuare a parlare. Lei si girò nel letto e lui le guardò le spalle nude, lisce e i capelli chiari alla luce della bajour. Poi ci fu il buio. Solo la luce della strada rischierava debolmente la stanza. Parlarono di cose di poco conto, per iniziare a conoscersi. I piccoli fatti di ogni giorno. La salute dell'anziana signora Ruth, una vicina di casa. La pavimentazione di Birch Street. Quindi rimasero in silenzio. Dopo un po', lui disse Sei ancora sveglia? Sì. Mi hai chiesto a che cosa pensavo. Stavo pensando una cosa. Sono contento di non aver conosciuto bene Carlo. E perché? Non sarei così a mio agio qui se l'avessi conosciuto meglio. Però io conoscevo Diana abbastanza bene. Un'ora dopo, lei dormiva. Respirava senza far rumore. Lui era ancora sveglio. La stava guardando. Riusciva a vederle il viso in quella luce fioca. Non si erano nemmeno sfiorati. Alle tre del mattino si tirò su per andare in bagno e al ritorno chiuso la finestra. Si era alzato il vento. All'alba si alzò, si vestì in bagno e guardò di nuovo Eddie Moore che era ancora nel letto. Era sveglia. Ci vediamo. Davvero? Sì. Uscì e si dresse a casa sua passando accanto a quelle dei vicini e una volta arrivato entrò. Si fece il caffè e mangiò pane tostato e uova. Andò a lavorare in giardino per un paio d'ore poi tornò in cucina pranzò presto e nel pomeriggio dormì profondamente per due ore. Abbiamo voluto iniziare così entrando subito nell'ultimo romanzo di Kentarouf che esce oggi. Le nostre anime di notte. Credo che ne abbiate sentito parlare anche solo perché banalmente sono usciti moltissimi articoli che raccontavano di questa uscita. Quella di oggi è una serata un po' particolare che sta a metà tra la presentazione di un libro di una novità di un libro nuovo che si affaccia sul mercato e dall'altra parte però è anche una serata celebrativa perché quello che è successo intorno a Kentarouf in quest'anno e intorno alla trilogia di Holt davvero per me non ha quasi precedenti. L'affezione delle persone. E per cui so che molti di voi sono assolutamente preparati sul libro e sanno di che cosa si tratta hanno letto gli articoli appunto. E beh insomma non svelo niente se dico che questo libro ha una dedica precisa a Katie Aruf che è la moglie di Kentarouf. Anche il personaggio di Eddie è ricalcato un po' su Katie Aruf e allora noi abbiamo questa fortuna questa sera e quindi le chiediamo di salire qui con noi sul palco Katie Aruf Katie Aruf dialogherà con Giuseppe Colicchia. Intanto benvenuta siamo molto felici di averla qua perché come vede l'opera di Kentarouf ha raccolto un grandissimo numero di affezionati lettori anche in Italia da parte mia ho avuto la fortuna di recensirlo un paio di volte su Tutto Libri e quindi sono anche molto contento di essere qui per poter dialogare con lei e se c'è una persona nel mondo che oggi può raccontarci Kent Aruf e il suo lavoro questa naturalmente è lei e vorrei chiederle per cominciare com'è stato vivere accanto a un uomo come Kent però non vorrei andare troppo sul personale vorrei capire intanto com'è stato vivere accanto a un uomo che viveva a Holt un luogo immaginario e però incredibilmente reale Kent was a very ordinary person and he didn't ever do anything weird or like he heard about some writers he was very disciplined about his writing when he was writing a book he would go to his writing he'd go there every day every morning he only worked in the morning and but he would think about his characters he would think about everything for at least a year before he ever wrote anything so there'd be these ideas rattling around in his head but as a person he walked the dogs and cleaned up the dog poop and we went out with friends and we went for hikes in the mountains and he was a very down to earth and real person just like his characters I mean that he was very much I think of Raymond McFerrin in Plainsong and Tom Guthrie and the words coming through Reverend Lyle in Eventide I mean all these characters I mean this is he was just he was just ordinary and just watched everything he was watching life all the time and he said he was a terrible gossip that something would come in his ears and come out on his paper so but he was just a sensitive kind person to everybody really so Kent era una persona normale non era una persona strana o bizzarra come alcuni scrittori di cui si sente parlare era molto disciplinato nella scrittura aveva una tabella di marcia ben precisa scriveva solo la mattina ma pensava per lungo tempo ai suoi personaggi prima di mettersi a scrivere per circa un anno e aveva quindi queste idee continuamente in testa ma come persona appunto era una persona normale portava il cane a passeggiare raccoglieva i bisogni del cane andavamo in gita con gli amici passeggiavamo in montagna era una persona molto concreta un po' come alcuni suoi personaggi penso ad esempio a Raymond McFerrin di Canto della pianura o Tom Guthrie o al reverendo Lyle di Crepuscolo tutti questi personaggi che hanno questo questo aspetto di normalità li assomigliano e lui era era così osservava osservava moltissimo la vita delle persone si definiva un pettegolo diceva che tutto quello che sentiva poi in qualche modo finiva sulla carta era una persona sensibile e gentile con tutti grazie Le nostre anime di notte è l'ultimo lavoro di Kent e volevo capire se appunto questo lavoro di gestazione che durava anche un anno in cui lui prima di cominciare a scrivere pensava i personaggi li costruiva nella sua testa comportava anche poi il fatto che lui magari ne parlasse o era uno di quelli che invece evitavano di parlare assolutamente dei loro di una storia prima di averla finita di averla finita la going around in his head and then one day in the spring of 2014 he said I'm gonna write a book about us and I said really and after he was through with the manuscript and gave it to me to enter into the computer that was the first time I'd read it and I thought aha it's about two old people who talk all the time at night because that's what he and I always did that was his favorite time when we lie there holding hands every every night and talk about everything whatever that was going on in the day or our thoughts about anything or how we felt about each other our children any anything and and it was really important to Kent and me to stay current with each other just to stay clear with each other and so that's when I read the manuscript I realized the setup for the book is in these two old people who talk all the time then he went into his fiction and made up a story about that but yes that was that was what he wanted to write about it and he had he had a good time writing this book Kent non parlava mai nelle delle storie che aveva nella testa con nessuno ma si pensava a lungo e con gli altri libri ci aveva impiegato dai cinque ai sei anni per la scrittura ma qui era un po diverso perché sapeva di non avere molto tempo davanti a sé e quindi in questo caso non mi lesse nessun capitolo prima di aver finito il manoscritto verso la primavera del 2014 mi disse un giorno ho intenzione di scrivere un libro su di noi e io gli risposi a davvero e quando lo ha finito me lo ha consegnato perché io potessi trascriverlo a computer e l'ho quindi letto per la prima volta e ho capito che la struttura del romanzo era questa erano due persone anziane che si ritrovano di notte per parlare questo era il momento preferito di Kent nella nostra giornata momento in cui andavamo a letto ci tenevamo per mano e parlavamo su qualsiasi di qualsiasi argomento condividevamo i nostri pensieri i nostri sentimenti parlavamo dei nostri figli ed è stato sempre molto importante per Kent e per me restare in contatto continuare ad esprimere chiarezza l'uno nei confronti dell'altra e così quando ho letto il manoscritto appunto mi sono resa conto che questa era la struttura due persone anziane che si parlano di notte e poi lui ha proseguito con il con il romanzo e ha costruito tutta la storia ma ci teneva moltissimo a scrivere questo libro e credo che in un certo senso sia stato anche un grande divertimento per lui durante la sua vita Kent a Ruff ha fatto molti lavori molto normali ha lavorato nell'edilizia come operaio ha fatto il bidello ha lavorato in una fattoria ha insegnato ha fatto l'assistente in una clinica riabilitativa il fatto di avere avuto un passato in cui ha dovuto confrontarsi con una vita anche non facilissima successo è arrivato poi piuttosto tardi quando lui aveva cominciato a scrivere da da parecchio tutta questa serie di lavori manuali pratici così l'hanno forse anche aiutato a sintonizzarsi sui personaggi di oltre su questa piccola comunità in cui tutti si conoscono più o meno e dove ciascuno ha una vita apparentemente molto molto ordinaria salvo poi nascondere storie che sono state in grado di affascinare milioni di lettori Kent did work in several different areas I mean he was a he was a teacher for 30 years and early on he worked on his brother's cattle ranch I mean he but he would mostly observe things and and watch what was going on and was really important for him to get the material right to have it accurate and but he he lived in he grew up in three small towns really small in Colorado and and then he lived there when he was an adult as a high school teacher I'm so he he did know a lot about people and and this started to you know he started making up what his town was because he he knew a lot of information about what stores were on Main Street and I mean that's when he he made up his fictional town but but he knew the a lot of these the prototypes for these characters I mean they're all fictional characters but I think in a small town you you have a chance to really know some people and situations and it's being in a small town is a representation of what goes on in the world but it's easy easier to see I think so for instance with if you've read plain song the McFerrin brothers get somebody asked him where did those McFerrin brothers come from and Kent said when he was a young child his father was a Methodist minister and and Kent said he remembered being in in church and seeing these two old brothers come in very these very quiet old man coming into church and sitting there and and he said I always wondered what I knew they were brothers and they lived together out in the country and he said in my brother and I always thought that sounded like the best you live out in the country with your brother with horses and nobody's telling you what to do and so he thought that idea of the two old men might have just come from that observation when he was young so he was a real observer of everything yes Kent has done many different work in many sectors he has been an teacher for 30 years and has worked for a period in the factory of his brother but whatever he did he had this talent in observing it was a very important thing for him the collection of material he was also said that he grew up in three small cities in Colorado in three small cities in Colorado very small cities where he lived in adult and taught him in high school and there he learned a lot of things about people living in that area and there he learned a lot of things about people living in that area he was a real part of these places he knew and knew exactly what shops and office they were in the same world he knew exactly what shops and offices were on Main Street for example but instead of the prototypes of these characters that are all of his inventions that are all of his inventions they derive from their experience in these small cities In una piccola città si conoscono molto bene le persone e sicuramente è più facile che una piccola città esprima una rappresentazione del mondo che rende alcune caratteristiche dei personaggi più facili da vedere. Se pensate a Canto della pianura, se lo avete letto, spesso gli si chiedeva a Kent da dove arrivassero i personaggi dei fratelli Macfern e lui raccontava che da piccolo, lui era figlio di un pastore metodista, aveva questo ricordo quando andava in chiesa la domenica di due fratelli molto piuttosto anziani, molto tranquilli che venivano in chiesa. Insieme a suo fratello Kent si ricordava di aver immaginato la vita di questi due fratelli, immaginandola come una cosa fantastica, bellissima, vivere in campagna insieme solo con i cavalli, fra fratelli, senza nessuno che dicesse loro che cosa fare. E quindi lui stesso riteneva che forse l'idea dei due fratelli potesse arrivare da lì. Era davvero un grande osservatore. Proprio la storia dei due fratelli che poi finiscono per adottare Vittoria, la ragazzina che viene cacciata di casa dalla madre perché resta incinta. Fa pensare a questa comunità di Olt quasi come una famiglia allargata, più che una semplice comunità. Come se in quel piccolo centro ci fosse una disponibilità all'ascolto, all'accoglienza, che forse parte più di una famiglia che non di un paese. Come se la famiglia fosse in realtà al centro della narrazione, in tutta la trilogia. Yes, Kent was very interested in the idea of family and not just your biological family, the people you take in, the people you love and care about and care about you. And Plain Song was the first book that he wrote that really embraced that idea and he lived his life like that too. We had friends from, that became part of our families from besides our own biological children, we had children from all over the place and friends. And that was very interesting. Well, he was so interested in how people, the dynamics between people, how people related with each other. and he really liked the idea of enlarging your family, embracing other people besides just your own. Sì, Kent era molto interessato proprio all'idea di famiglia e non solo alla famiglia naturale, biologica, ma più in generale alla famiglia intesa come persone a cui si vuole bene e di cui ci si vuole occupare. E Canto della pianura è stato il primo libro in cui ha espresso quest'idea. E lui ha anche vissuto la sua vita in questo modo, avevamo moltissimi amici che in qualche modo sono diventati parte della nostra famiglia, quindi non solo i nostri figli, ma anche tutta una serie di amici e persone che sono entrate a far parte del nostro universo familiare. Era molto interessato alle dinamiche e alle relazioni e amava molto quest'idea di allargare i confini della famiglia. Un'altra cosa che si nota è che nei libri di Kent Haroof non c'è mai un giudizio, anche i personaggi che sono più sgradevoli, se vogliamo, non vengono mai giudicati. È come se lui avesse questa capacità di grande empatia nei confronti di tutti, indipendentemente poi dal ruolo nella vicenda. Era un uomo molto empatico, oltre che essere uno scrittore così capace di empatia nei confronti dei suoi personaggi. Yes, Kent loved all his characters, and even the so-called bad ones, because he never judged them or moralized about anything with them. I think he just figured that everybody is living from their humanity and experiencing all those things that we do. Our fears and our anger and our joys. And he never figured a character was all good or all bad. I mean, it was just people living from their woundedness or their experiences. And it's just like Gene in Our Souls at Night. I mean, he had experiences that made him bitter and angry and sad. And so he acted out of some of those normal reactions to life events. Sì, Kent amava tutti i suoi personaggi, anche quelli negativi. Non esprimeva mai un giudizio su di loro o appunto qualche critica morale. Pensava che in qualche modo tutti vivono della loro umanità e fanno esperienza di paura, di rabbia, di gioia. E non ha mai immaginato un personaggio che fosse totalmente buono o totalmente cattivo. Sapeva e li vedeva come personaggi che vivevano una vita fatta di ferite e di esperienze. E questo vale per esempio per il personaggio di Gene in Le nostre anime di notte, che arriva da esperienze che lo rendono una persona amara, una persona arrabbiata e triste. Sono le reazioni normali alla vita che ha vissuto. Prima accennavamo al fatto che il successo di pubblico è arrivato piuttosto tardi. Il suo primo racconto l'aveva pubblicato a 39 anni. Il primo romanzo che ottiene dei riconoscimenti arriva quando lui ne ha 56. Volevo sapere se durante la vostra vita insieme lui ricordava quegli anni molto duri probabilmente in cui scriveva ma in pochi lo leggevano e che cosa ricordava di quegli anni. La mia prima volta il plainte, Kent e io sono i giovani 25 anni fa. Vorrei che aveva lavorato come giro. Come si è stato molto frustrato, a me in questo momento in cui è stato buon tempo. because he had to support his family and his children and didn't have time to write and I think it was very frustrating when he and I got together he had started teaching at a university so he had time to write and we were both very protective of his time like he writes in the morning and if I were at home I would be sure that nobody interrupted him so that's when he really was able to write sort of full time was with the beginning of Plainsong so I think all those years I know with the tie that binds his first book he wrote that over a period of three summers when it was summer vacation and he wasn't teaching so he would write during the summer and then put it all away until the next summer and then write more and I know that was very frustrating so and then with his success of Plainsong he was able to stop teaching at the university and just write full time and that was a huge gift to him Kent Kent io siamo siamo messi insieme circa 25 anni fa e prima lui lavorava aveva lavorato molto duramente come insegnante ed era frustrato questo lo so perché doveva sostenere e mantenere la sua famiglia e i suoi figli aveva pochissimo tempo per scrivere e questo era estremamente frustrante per lui quando io e lui ci siamo messi insieme lui insegnava all'università e quindi aveva un pochino più di tempo per scrivere ed entrambi eravamo molto protettivi nei confronti del suo tempo lui scriveva la mattina e io facevo in modo che nessuno lo interrompesse durante la scrittura e così ha potuto scrivere e dedicarsi a tempo pieno alla scrittura di Canto della pianura so che per esempio The Tide that Binds, il suo primo libro, è un libro che lui ha scritto nell'arco di tre estati scriveva durante l'estate quando non doveva insegnare, durante le vacanze e alla fine dell'estate metteva il lavoro da parte per riprenderlo l'estate successiva e questo era davvero difficile per lui poi con Canto della pianura e il successo che è arrivato ha potuto davvero scrivere e dedicarsi alla scrittura a tempo pieno e questo per lui è stato un dono davvero straordinario L'editor di Haruf alla Knopf era Gary Fiske John un editor che ha lavorato con Carver, con Richard Ford e altri scrittori volevo capire che rapporto avevano loro e se Kent Haruf aveva dei rapporti con altri scrittori se si leggevano, se si confrontavano Quando Plainsong was ready to be when the manuscript was ready to be sent out to publishers Kent knew that he wanted Gary Fiske John was the top editor in the United States and so he he wanted Gary to be his editor and Gary picked up bought Plainsong and they had a great friendship for the last what has it been 15 years, 16 years since Plainsong and and Kent his best friend who was a writer was a man named Mark Sprag and but otherwise he didn't really have other friends who were writers he didn't sort of hang around with writers and when he was working when he was writing fiction he did not read any other fiction he would read non-fiction for pleasure he would read any kind of non-fiction but he didn't want to read fiction while he was writing because he didn't want to feel competitive or any of those feelings about it so but he he didn't have that one really good friend that they could we lived in different states but they would get on the phone and talk and talk and talk writing when Canto della Pianura was ready for the publication Kent knew that Gary Fisker John was the best editor in the United States and wanted to be published by him and so it was Gary chose the book and published it and it was an friendship that lasted for 15 or 16 years his best friend was a writer called Mark Sprag but otherwise non aveva molti amici fra gli scrittori e non era uno che frequentava la comunità degli scrittori vorrei anche dire che quando scriveva non leggeva fiction leggeva moltissimo leggeva però saggistica non fiction perché non voleva sentirsi in qualche modo in competizione con altri romanzi durante la fase della scrittura aveva questo amico scrittore molto caro ma altrimenti non frequentava la comunità degli scrittori io devo ancora chiedere due cose ancora una era se Kent Haruf era abituato a leggere ad alta voce le sue pagine una volta che terminava di scrivere l'altra qual era il luogo in cui scriveva perché mi pare che scrivesse in un luogo abbastanza speciale quando Kent would finish a chapter of his novels not not this last one because he wrote that over a summer and he said he wasn't going to read anything out loud he was just going to he would let me read it when he gave me the manuscript to put in the computer but on his other novels when he would finish a chapter then he would read it aloud to me he never talked to anybody about what he was writing he would read a chapter to me but he never told me what was coming next or anything like that and and I learned to be a very careful listener and when he was reading a chapter out of Plainsong to me I said to him I really like that character I really want to know more about that character I meant that as a compliment I thought that was a really nice thing to say because it was what I felt he went to bed for two days it was like and I told him I am never going to say anything ever again he was so tender hearted about all his writing and I thought that was a nice thing to say but so he would read each chapter when he was finished and one place we lived down in the basement there was an old coal room where they would empty the coal into that room down there years before that so he made that into his office and he loved it it was downstairs and it was quiet and it was just a little room and then where we lived for many years is up in the mountains in Colorado and he had a nice office in our house but he said we have so many children that when they come visit they stay for quite a while and he said even though nobody bothers me in my office I still couldn't feel all the energy around the house so we decided we went out and bought ourselves like a tool shed it was 8 feet by 8 feet this little like a little house we put two windows in it and put insulation up and covered the insulation and and he had a heater in it for the winter and it was just out behind our house among the trees the pine trees and he loved that he would go out in the winter he walked through the snow out there about a half hour before he was ready to write and he turned his heater on come back and get his cup of tea and go out there for the morning and he loved it it was a wonderful little place and it it was so quiet but where we lived was really quiet up in the mountains and he really liked that and so we could just be as noisy as we needed to be in the house with all the many children when Kent finished a chapter this vale for the other books not for this last book that he wrote in an year without reading the chapters when he finished but only giving me the end the manuscript but with all the other books every time he read a chapter I read read at altavocce non parlava della sua scrittura in generale mi leggeva un capitolo per volta senza mai dirmi cosa sarebbe successo nel capitolo successivo era un ascoltatore attento e una volta quando mi stava leggendo canto della pianura gli ho confessato di avere un particolare affetto per un personaggio che mi piaceva moltissimo gli ho detto mi piace molto questo personaggio mi piacerebbe saperne qualcosa in più io pensavo di fare un complimento mi sembrava una cosa carina da dire ma lui ha preso e si è chiuso in camera da letto per due giorni e io ho capito che non avrei mai più fatto nessun tipo di commento di questo tipo lui era molto protettivo nei confronti della sua scrittura e per quanto riguarda il posto in cui scriveva inizialmente nella prima casa avevamo sotto una stanza in cui un tempo venivano svuotati i sacchi di carbone che lui aveva trasformato nel suo ufficio e che gli piaceva moltissimo perché era sottoterra era molto tranquillo molto piccolo poi ci siamo trasferiti in montagna in colorado e inizialmente aveva l'ufficio in casa e scriveva lì ma a un certo punto mi disse abbiamo così tanti bambini in giro per casa e anche se tentano di non disturbare faccio fatica a ritrovare l'energia della scrittura e così abbiamo recuperato una sorta di una piccola baracca una sorta di casetta degli attrezzi un piccolo quadratino abbiamo ricavato due finestre l'abbiamo coibentata abbiamo messo il riscaldamento era proprio dietro casa in mezzo agli alberi ai pini ed era un posto che lui amava moltissimo durante l'inverno attraversa camminava per una mezz'ora nella neve prima di arrivare in questa casetta accendeva il riscaldamento si faceva la sua tazza di tè e passava la mattinata lì in questo posto bellissimo molto tranquillo e così noi potevamo fare a casa tutto il rumore che volevamo ringraziamo moltissimo sia che tiaruf che Sonia Folin che ci ha reso possibile l'ascolto in italiano e che ha tradotto per cui benissimo grazie allora mi intervengo perché vuole essere un racconto collettivo questo per cui andiamo avanti ci sarà qualcun altro adesso che sale sul palco abbiamo fatto mettere qui sullo sfondo la mappa di Holt che ha disegnato Franco Matticchio e questa ce ne sono due in questa in questa in questa mappa di mappe una è quella appunto di Franco Matticchio che vedete qua dietro che è una sorta di mappa sentimentale di Holt almeno lui così l'ha definita invece un'altra in cui c'è una toponomastica decisamente più decisamente più precisa allora mi hanno raccontato un aneddoto su questa mappa e io non sapevo niente mi ha divertito moltissimo per cui ve ne rendo partecipi ma perché racconta un po' della casa editrice di chi è di cos'è NN editore allora questa mappa qua doveva stare dentro un cofanetto che probabilmente avete visto fuori che raccoglie la trilogia dei canti della pianura dopodiché hanno fatto stampare questa mappa dopodiché si sono accorti che nella parte più dettagliata mancava una casa e non una casa di scarsa rilevanza mancava la casa di Dead Lewis e non se ne sono accorti da soli gliel'hanno fatto notare allora un po' di panico in casa editrice cosa facciamo le spediamo non le spediamo non se ne accorgerà nessuno poi ho un po' la sensazione che l'onestà intellettuale di questa casa editrice sia un valore che va veramente oltre quello a cui siamo abituati per cui hanno fatto ristampare le mappe con la casa di Dead Lewis le hanno messe nel cofanetto quelle che trovate sul vostro sedile sono quelle sbagliate ok però però visto che siamo un po' anche amanuensi in casa editrice si sono messi lì e hanno disegnato la casa di Dead Lewis per cui non solo avete la mappa giusta ma pure e hanno aggiunto anche la casa di Eddie Moore così almeno insomma abbiamo veramente fatto il lavoro completo questo perché perché siamo arrivati sono arrivati a fare delle mappe dei disegnatori a sentire l'esigenza di di disegnare la loro Olt perché ormai Olt è diventato un luogo un po' vicino a tutti noi abbiamo capito che è un luogo immaginario ma per tutti noi in un certo senso è diventato un luogo reale addirittura c'è chi è andato a cercarlo io prima di insomma di cominciare a fare questo lavoro su questa presentazione sono andato un po' a cercare in giro notizie su questa Olt e ho trovato una serie di persone che erano partite per andarla a cercare e vi capiterà andate davvero su un social o su youtube a fare una ricerca di questo tipo c'è chi dice sono assolutamente certo ora ho le prove incontrovertibili Olt e Pueblo poi un giorno dopo sono assolutamente certo un altro ho delle prove incontrovertibili assolutamente Olt e Juma poi un altro sono assolutamente certo ma l'ho trovata quella lì è la casa lì di cui si parla Olt e Fyllis insomma in realtà ognuno ha trovato la sua Olt ognuno di noi ha trovato la sua Olt però abbiamo la fortuna di avere qui con noi Fabio Cremonesi che è il traduttore e la voce italiana di Kentaruf volevamo invitarlo intanto a salire qui con noi perché la sua perché la sua di Olt è un po' diversa dalla nostra perché noi ci siamo passati a Olt e ci andiamo ogni volta che abbiamo voglia di leggere Kentaruf ma lui a Olt in un certo senso ci ha davvero vissuto perché ha tradotto i tre romanzi della trilogia poi subito dopo questo e quindi per un lungo periodo si può dire davvero che lui abbia vissuto ad Olt per cui gli abbiamo chiesto di fare uno sforzo un intervento non gli abbiamo fatto alcuna domanda gli abbiamo dato semplicemente un titolo vivere a Olt Fabio Cremonesi buonasera a tutti grazie di essere qui inizierei dicendo che chiunque o suppongo quasi chiunque abbia letto un libro di di Kentaruf o tutta la trilogia o quelli che leggeranno adesso le nostre anime di notte sicuramente lo troverà toccante nel senso Kent ha la capacità di in qualche modo trasformare trasformarci un pochino senza timore di apparire un po' retorico dirò che credo che sia un autore che ha la capacità di renderci un pochino migliori delle persone un pochino migliori ma il talento di Aruf è un talento per quanto mi riguarda così straordinario che ha trasformato una persona come me io faccio il traduttore uno dei mestieri più solitari del mondo sono una persona che passa 10 o 12 ore al giorno della sua vita chiuso nella sua stanza con un dizionario in mano ecco Aruf a questo punto posso dire mi ha trasformato in una sorta di guida turistica cioè un mestiere come dire estremamente sociale e che mi impone di trovarmi delle platee numerose di fronte cosa assolutamente ovviamente insolita nella nella vita di un traduttore insolita molto gratificante e anche un pelino terrorizzante ecco se proprio ve la devo dire tutta ecco che cosa mi sento di dirvi come guida turistica di questa località immaginaria la prima cosa è una come dire un'istruzione generale che vi do come visitatori e come lettori di Aruf oltre a un luogo privo di cinismo non siamo quasi più abituati a questo viviamo viviamo in un mondo in cui quasi tutta la produzione culturale almeno quella strettamente contemporanea non parlo solo di libri ma parlo anche di film di serie televisive di musica persino è permeata e utilizza l'ironia il sarcasmo e purtroppo spesso anche il cinismo come strumento quasi unico o comunque principale di lettura e di interpretazione della realtà ecco Aruf è lontanissimo da tutto questo cioè in Aruf non c'è cinismo Aruf parla francamente a cuore aperto e in maniera toccante di di quelli che un tempo si sarebbero chiamati un po' retoricamente valori o comunque di categorie che di solito si pensano con la con la iniziale maiuscola la vita l'amore la morte lo fa in maniera totalmente quasi sfrontata in questa lontananza dal punto di vista dominante di buttare tutto in cacciara di buttare tutto in cinismo e in ironia questo quindi è un po' la prima indicazione che do a tutti i visitatori vecchi e nuovi in particolare nuovi di Ault c'è un'altra indicazione secondo me abbastanza interessante che riguarda le persone che vivono a Ault poi faremo una rapida carrellata delle varie tipologie umane degli abitanti di Ault ma una cosa li accomuna è già stato parzialmente detto prima Ault è una comunità con delle regole severissime con delle regole quasi implacabili di di condotta che garantiscono l'appartenenza a questa comunità le ho definite regole implacabili perché ci sono una serie di persone che trasgrediscono a queste regole e vengono inesorabilmente emarginate e in certi casi fisicamente espulse mi riferisco per esempio a Frank il figlio gay di Deadly di benedizione mi riferisco alla coppia di protagonisti di delle nostre anime di quest'ultimo le nostre anime di notte che sono due persone di una certa età che contro il parere della comunità contro e nell'ostilità della delle loro famiglie iniziano a frequentarsi in una maniera che prima è un semplice modo di sfuggire alla propria solitudine e poi si trasforma senza voler rivelare troppo si trasforma in qualcosa di più anche queste persone si trovano duramente contestate esplicitamente contestate dalla loro dalla comunità e dalla e dalla famiglia ecco la peculiarità di questa comunità di Holt è che a fronte di queste regole implacabili di appartenenza offre davvero molto poco cioè è una comunità quasi che si definisce in negativo chi non accetta certe regole è fuori ma quelli che sono dentro non è che offra poi granché offre in realtà un'unica vera e grande possibilità tra virgolette di salvezza ed è quella di crearsi delle comunità più piccole delle comunità degli affetti che sono quelle degli affetti ma non solo perché sono anche comunità piccole comunità o famiglie elettive per così dire che rispondono non solo all'istanza degli affetti ma anche in molti casi ha dei bisogni molto materiali e molto concreti bisogni proprio di vita pratica giorno per giorno di darsi una mano tra vicini di casa di questo genere di cose si creano quindi con un salto straordinario nella modernità se vogliamo di un autore così volutamente lontano dagli anni in cui stiamo vivendo però c'è questo concetto invece di straordinaria modernità e cioè quello che la famiglia non è quella che sta scritta sullo stato di famiglia ma è quella cosa che ciascuno di noi deve avere la capacità la forza la fortuna e il coraggio di crearsi giorno per giorno ce ne sono parecchie di queste famiglie elettive non sto a elencarvele perché attraversano tutti e tre i volumi della della trilogia beh c'è quella diciamo più facile la piccola famiglia formata dai due fratelli Macpheron con la ragazza madre Victoria Rubidò e più avanti con la piccola figlia di questa ragazza una famiglia che saprà aprirsi anche al nuovo fidanzato di Victoria Rubidò ma diciamo ce ne sono tutta una la piccola famiglia costituita da Eddie e Louis nei nostri cuori nelle nostre anime di notte che saprà a sua volta accogliere la vicina Ruth e altre persone che vengono fuori il figlio il nipote di Eddie eccetera eccetera ci sono degli altri aspetti naturalmente perché il Holt questo mondo immaginato da Kent Haruf è immaginato nei suoi dettagli più minuscoli della quotidianità di ogni giorno per esempio noi sappiamo moltissimo del mangiare a Holt tutte cose che preferiremmo non sapere perché a Holt come saprà chi ha letto questi romanzi a Holt si mangia malissimo si mangia malissimo nei ristoranti le cose che vediamo acquistare al supermercato o che vediamo nei frigoriferi dei personaggi sono cose almeno per i nostri elevatissimi standard italiani sono cose raccapriccianti però ce ne viene dato ampio ce ne viene dato un'amplissima panoramica ci sono gli animali di Holt un aspetto che finisce spesso in secondo piano nelle numerosissime recensioni commenti blog che hanno parlato di Haruf mi sembra che gli animali siano sempre un po' in secondo piano ma in realtà hanno in ogni momento topico in ogni snodo topico di questi romanzi c'è sempre un animale ci sono sempre degli animali che hanno che non hanno niente di umano nel senso non sono non sono metafore di nulla però ci vengono descritti in un modo che come dire sempre getta una luce una prospettiva sulla vicenda narrata ci sono principalmente intanto c'è il il toro che uccide Harold in crepuscolo in una delle scene più potenti che a me personalmente è capitato di leggere negli ultimi anni ma ci sono anche c'è anche una buffa nidiata di topolini nel cortile di Lewis Waters nelle nostre anime di notte e ci sono in canto della pianura ci sono tre scene di animali pazzesche sono forse la singola cosa che ho fatto più fatica a tradurre di Aruf per la terminologia tecnica impiegata io come dire non so nulla di zootecnia e quindi è anche stato abbastanza un pasticcio tradurle però ci sono tre scene potentissime una mucca che partorisce un cavallo che muore e gli viene fatta l'autopsia e una straziante descrizione dello svezzamento di un vitello che poi di fatto è una separazione forzata di questo vitello dalla madre queste tre scene di animali sono in canto della pianura ovviamente stiamo parlando di una piccola comunità rurale per cui come dire la mucca che partorisce è un'esperienza presente nella quotidianità di tutti quanti insomma non è un un evento così strano tra l'altro il Tom Gatrick che fa il professore è quasi sempre presente a queste scene pur essendo un professore di liceo quindi apparentemente una persona che lavora nel terziario e non nell'agricoltura e poi ci sono naturalmente le persone le persone sono una galleria di persone magnifiche ci sono dei bambini uno più interessante e meglio caratterizzato dell'altro Ike e Bobby in canto della pianura la piccola Alice in benedizione Ricci e Joy Ray che sono i figli di questa famiglia totalmente disfunzionale in crepuscolo e via dicendo ci sono degli adolescenti difficili come tutti gli gli adolescenti di questo mondo per cui c'è Victoria Rubidò la giovane ragazza madre di origine siù di benedizione c'è John Wesley il figlio problematico del pastore problematico di benedizione insomma c'è un paesaggio umano molto ricco naturalmente si muore a Olt si muore come ovunque ma a Olt forse con una con una pregnanza e con una posso dirlo con una grazia abbastanza sconosciuta abbastanza sconosciuta altrove chiuderei questa rapidissima carrellata questo breve scursus sulla vita a Olt con una doverosa carrellata di amori a Olt naturalmente un posto in un luogo in cui la vita familiare ha un'importanza così fondamentale come in Olt e come in qualunque altro posto del mondo oserei dire vede una quantità cospicua di amori di amori di tutti i tipi ci sono amori più facili i due protagonisti di Benedizione Deadly Lewis e Mary ci sono amori apparentemente difficili ma in realtà solidi e profondi come i due genitori della famiglia disfunzionale di qui sopra di Crepuscolo sempre in Crepuscolo ci sono una serie di altre coppie perfettamente riuscite Tom Guthrie e Maggie Jones Victoria Rubidoux e Del Gutierrez e quella di Raymond McFerron e Rose soprattutto poi ci sono degli amori ci sono degli amori finiti il reverendo di Benedizione e sua moglie Tom Guthrie e la sua moglie depressa e l'incanto della pianura ci sono degli amori sbagliati il primo il primo amore di Victoria Rubidoux il ragazzo che la mette incinta e via dicendo e per concludere ci sono ci sono degli amori difficili ci sono degli amori difficili che sono quelli che forse lasciano più una traccia in noi e mi limito a citarne due che sono quello toccante di di Frank il figlio gay di Deadly Lewis e di Mary in Benedizione e naturalmente quello di Eddie Moore e Lewis Waters i due protagonisti delle nostre anime di notte per tutto il resto che dire benvenuti a Holt a quelli che la visiteranno per la prima volta e bentornati a quelli che ci sono già stati con la trilogia e che ci tornano con questo nuovo libro grazie allora questo è doveroso perché eccola qui Eugenia Dubini un applauso anche per lei lei è l'editore di Kentaro allora una cosa era doverosa da chiederti perché quanto è che siete arrivati in libreria voi? marzo del 2015 marzo del 2015 per cui nemmeno due anni quasi due anni normalmente quando una casa editrice ha due anni al salone del libro sta nell'incubatore ha pubblicato qualche libro se si è fortunati se sono fortunati se sono stati particolarmente bravi incominciano a vedersi i libri di questa casa editrice un po' sulla stampa o sui banchi di tutte le librerie invece quello che è successo a NN è qualcosa di davvero fuori dal comune non voglio non ti chiederò niente di questo perché insomma come dire il lavoro che avete fatto è a testimoniare lì la bontà delle scelte che avete fatto però qualcosa su Kentaroff sì te lo devo chiedere la storia di NN e Kentaroff allora in realtà Kentaroff è stato il primo libro che abbiamo comprato cioè il primo libro che abbiamo comprato è stata tutta la trilogia di Kentaroff cioè Benedizione Canto e Crepuscolo e Kentaroff l'abbiamo trovato iniziato a leggere poco prima di andare alla nostra prima fiera di Londra la fiera di Londra è dove si va di solito a incontrare agenti case editrici sono le fiere internazionali dove si comprano i diritti o si chiedono i manoscritti era la nostra prima fiera stavamo partendo ed escono i finalisti del Foglio Prize che è un premio americano che ora non esiste più ma io anche prima come lettore lo seguivo perché segnalava dei libri molto belli di solito vedo questo titolo Benediction di Kentaroff e dico ma è un bellissimo titolo cerco la storia mi piaceva tantissimo e scopro ma su internet facilmente che veniva rappresentato da una piccolissima gente americana che aveva solo 20 scrittori che era rappresentata in Italia da Antonella Antonelli che era un agente con cui avevo lavorato tantissimi anni prima e che stava chiudendo lei ci manda il manoscritto e dice che quel libro lì era libero quindi partiamo io Edoardo e Gaia Mazzolini per la nostra prima fiera di Londra con questo manoscritto allora in realtà era aprile noi avevamo iniziato a pensare la casa editrice da 8-9 mesi ma la società l'avevamo appena fondata nel febbraio non avevamo comprato ancora nessun editori iniziavamo con i primi contatti sulla letteratura internazionale e avevamo un po' di manoscritti in lettura ma non tantissimi e quindi arriviamo a Londra per la prima volta in questa sala gigantesca sarà una sala da 2000 metri quadrata e tutti con dei tavolini piccolini tu hai degli appuntamenti da mezz'ora sono assolutamente ligissimi in questo tu arrivi ti metti in fila a mezz'ora vai devi aver preso l'appuntamento se no non c'è posto e tutti gli altri in fila da tutto il mondo vi giuro che era abbastanza terrorizzante anche perché tutti gli altri italiani avevano 200 appuntamenti noi anche tempo libro ci guardavamo in giro una quantità di parole trame di libri un rumore in queste sale dopo prima la fiera praticamente inizia la mattina finisce la sera ma poi si continuano a incontrare le stesse persone che si spostano e c'era questa cosa che accadeva che tornavo a casa e avevo benedizione da leggere lo leggevo boh faceva silenzio cioè si creava un silenzio incredibile rispetto a tutto quel frastuono che c'era e quindi continuavo questa lettura è un po' un balsamo rispetto anche un po' di paura che avevamo quello che è successo poi di incredibile è stato che siamo arrivati all'aeroporto per tornare arriviamo proprio al check-in passiamo il biglietto e scopriamo che l'aereo è stato cancellato per uno sciopero in Italia e quindi ci hanno messo in un albergo lì nell'aeroporto uno di quegli alberghetti chiusi senza quasi neanche le finestre dove si aspetta solo la coincidenza abbiamo avuto dieci ore di tempo ci siamo finite di leggere il libro eravamo io e Gaia e ci siamo guardate già tipo commosse con le lacrime e nel frattempo prima di andare avevamo dato il libro in lettura anche a Fabio e niente quando siamo tornati anche lui era rimasto abbastanza folgorato da benedizione e abbiamo detto beh qui di sicuro poi però abbiamo scoperto che era tutta una trilogia ci siamo letti tutto quanto e abbiamo deciso di prendere tutta la trilogia perché la nostra intenzione era anche di uscire con i libri in serie non in collane quindi una trilogia era perfetta per il nostro progetto editoriale che dirvi d'altro poi è stato beh poi ho avuto l'occasione di scrivermi con Kent Aruf intorno agosto in cui sono riuscita a raccontargli che eravamo felicissimi di averlo tra i nostri scrittori che eravamo un po' fieri di essere il suo editor italiano e lui ci ha risposto dicendomi che eravamo noi coraggiosi ad aver preso tutta la trilogia e via dicendo poi ancora ci siamo scritti sulla perché la mia idea la nostra idea era di uscire per primo con benedizione che è stata una cosa da molti contestata ma proprio il nostro colpo di cuore era stato con benedizione canto della pianura era già uscito per Rizzoli tanti anni prima le trame erano separate era molto più era molto più necessario fare canto della pianura prima del crepuscolo piuttosto che c'è benedizione come molti di voi sanno aveva una trama totalmente autonoma e anche Kent Aruf su questo era era ha scritto che per lui era una trilogia sciolta slegata e che quindi forse non l'aveva neanche mai concepito come mi sta raccontando Katie in questi giorni come proprio una trilogia e e niente e poi lui è mancato improvvisamente e e ho scritto per la prima volta a Katie nel dicembre di quell'anno solamente per farle le condoglianze il libro è uscito e piano piano ha avuto proprio ha conquistato i lettori ma è solo un anno dopo perché poi la storia in Italia la conoscete anche voi è solo un anno dopo che a un certo punto una notte sono arrivata a casa e ho pensato eh ma io questa cosa che ti aruffi gliela devo dire qui sta succedendo qualcosa allora le ho scritto una lettera dicendole guarda Katie non so che cosa sia ma qui in Italia sta succedendo qualcosa perché questi libri stanno proprio appassionando stanno facendo innamorare i lettori e e da lì abbiamo iniziato a scriverci e questo è il motivo anche per cui è venuta a trovarci perché poi ha iniziato a seguire Facebook ha iniziato a seguire l'uscita di Crespuscolo e quindi l'altro giorno si è fatta portare in piazza Duomo dove avevamo organizzato una lettura in pubblico e ha detto io voglio andare esattamente in quel posto lì dove vi ho visto che leggevate in pubblico dei ragazzini con voi e niente quindi è qua anche un po' lei per amore allora volevamo finire con le parole di Aruf e poi ci fu il giorno in cui Eddie Moore fece una telefonata a Lewis Waters era una sera di maggio appena prima che facesse buio vivevano a un isolato di distanza in Saddle Street nella parte più vecchia della città olmi e bagolari e solo un acero cresciuti sul ciglio della strada e prati verdi che si stendevano dal marciapiede fino alle case a due piani era stata una giornata tiepida ma di sera aveva rinfrescato dopo aver camminato sotto gli alberi la donna svoltò all'altezza della casa di Lewis quando Lewis le aprì la porta lei disse posso entrare e parlarti di una cosa sedettero in salotto vuoi qualcosa da bere o un tè no grazie non so se mi fermerò abbastanza per berlo lei si guardò intorno è graziosa la tua casa Diana l'ha sempre tenuta bene un po' ci provo anch'io è ancora graziosa erano anni che non ci venivo guardò fuori dalla finestra verso il cortile laterale la notte si stava accomodando fuori e dentro la cucina una luce illuminava il lavandino e il bancone tutto sembrava pulito e ordinato lui la stava guardando era una donna attraente l'aveva sempre pensato quando era più giovane aveva i capelli scuri ma ormai erano bianchi e li portava corti era ancora in forma solo un po' pesantita in vita e sui fianchi probabilmente ti stai chiedendo che cosa ci faccio qui beh non penso tu sia venuta per dirmi che casa mia è graziosa no volevo suggerirti una cosa eh sì una specie di proposta ok ma no di matrimonio beh non pensavo neppure a questo però c'entra con una specie di matrimonio ma ora non so se ci riesco ci sto ripensando lei fece una risattina in un certo senso è un po' come un matrimonio non ti pare? che cosa? l'indecisione può darsi? sì insomma adesso te lo dico dimmi mi chiedevo se ti andrebbe qualche volta di venire a dormire da me cosa? in che senso? nel senso che siamo tutti e due soli ce ne stiamo per conto nostro da troppo tempo da anni io mi sento sola penso che anche tu lo sia mi chiedevo se ti andrebbe di venire a dormire da me la notte e parlare di venire di venire di venire